La protezione civile regionale si prepara ad un'altra estate rovente. Le temperature già calde del mese di giugno impongono un'anticipazione della messa in moto del piano antincendio boschivo. La macchina organizzativa già è partita in via di definizione. Le risorse a disposizione ci sono e già sono operative le organizzazioni di volontariato di supporto alla protezione civile con le loro macchine e le loro attrezzature. Ci sono circa 140 associazioni abilitate all'antincendio. L'estate dello scorso anno fu da dimenticare da questo punto di vista con molti incendi vasti ma fortunatamente non tutti i boschivi che interessarono le quattro province. A giorni sarà riattivato il servizio con l'elicottero dei Vigili del Fuoco all'aeroporto di Preturo ed è in corso la gara della protezione civile per gli elicotteri regionali che quest'anno saranno due. Anche per quest'anno ci stiamo organizzando, abbiamo raddoppiato il potenziale aereo perché avremo invece che uno due elicotteri regionali oltre all'elicottero del Coahu nazionale che sarà Preturo, l'Erikson. Quindi poi avremo un ulteriore mezzo aereo in casi eccezionali da parte di Vigili del Fuoco che fa stazione a Pescara. Ci sono insomma le convenzioni sempre con le associazioni, con le organizzazioni di supporto che sono abilitate. In questo senso come siete messi? Allora stiamo chiudendo la nuova convenzione. In ogni caso stiamo in prorogazio della vecchia. Le organizzazioni che possono, che hanno l'abilitazione alla lotta attiva all'AIB sono 140, abbiamo 1300 volontari abilitati, 150 mezzi, oltre 150 mezzi a terra, quindi il potenziale è molto molto alto. Quest'anno l'abbiamo quindi incrementato in maniera sensibile. Stiamo adesso in questo momento organizzando, mandando a tutte le organizzazioni le procedure operative per quando riguarda le attività di avvistamento, sorveglianza e spegnimento. Intanto domani parte il corso di formazione per operatori di sala operativa unificata che lavoreranno in sinergia con i Vigili del Fuoco ma con una preparazione maggiore, sempre in relazione all'antincendio boschivo. Quest'anno stiamo formando gli operatori di sala operativa che è tutto il nostro personale che ha lavorato costantemente anche nelle stagioni pregresse all'attività AIB in sala operativa, ma stiamo facendo una specializzazione che è tesa alla formazione, così come prevista dal decreto del Presidente del Consiglio, per la formazione di operatori di sala. Questa formazione prevede espressamente diciamo delle materie che sono quelle legate alla meteorologia, all'attività AIB, alla componentistica vegetazionale del suolo per capire meglio quelle che sono le attività che va a svolgere il personale sul campo.